il punto c consiglio 36 mancano dieci giorni alla ripresa del campionato per il napoli il 10 10 ottobre un numero che ritorna e che tra l'altro a napoli comunica sempre un certo sentimento perché il numero del più forte di tutti il più grande di tutti di diego armando maradona e a dieci giorni dalla dalla trasferta di empoli al castellani dalla ripresa del campionato il napoli di conte lavora del resto il mantra è sempre quell'amma fatica cui conte ha costruito la sua avventura napoletana e c'è un appuntamento a castelvolturno oggi meritevole di attenzione perché alle 15 allenamento congiunto con la juve stabia squadra rivelazione in serie b che ha chiuso il campionato prima della sosta con una vittoria di lusso il successo in trasferta contro la sampdoria per carità con lo stadio di marassi con il ferrari sa porte chiuse però è sempre una vittoria di grande livello juve stabia che in questo momento in zona playoff con tante situazioni interessanti da studiare su tutti l'allenatore a juca un piccolo sarri un nuovo sarri considerando il suo approccio tattico la sua attenzione maniacale a certi aspetti la capacità di migliorare il materiale che ha perché lo ha fatto in serie c l'anno scorso una promozione che non era nei piani e lo sto facendo in serie b quest'anno e sarà interessante vedere questa vedere raccogliere notizie perché purtroppo non potremo vederla su questa sfida su questo allenamento congiunto con i reduci di castelvorturno che però c'è tanto materiale su cui lavorare perché ci sono mazzocchi spinazzola lucacu neres simeone tanti giocatori juan jesus tanti giocatori juan jesus che tra l'altro facendo una parentesi di cronaca ieri a sporto denuncia per quanto accaduto nella notte tra nell'altra notte quando ha trovato la sua il vetro della sua auto in frantumi e il tentativo di furto rilevando anche cinque high tag per monitorare i suoi movimenti nella nella sua auto comunque zerbin tanti altri giocatori e del possono fare un determinato lavoro crescere attraverso gli allenamenti senza i dodici nazionali che sono in giro per il mondo riguardo all'empoli stamane è arrivata la notizia dell'infortunio di viti e gli farà saltare italia irlanda di martedì partita dell'under 21 vedremo se sarà un infortunio un problema che gli lo costringerà anche al forfè contro il napoli viti è uno dei dei giovani che l'empoli sta mettendo in mostra in questo campionato viti fazzini sebastiano esposito pensate che viti è il giocatore della serie a che ha vinto più contrasti affermato più driblatori e con 15 duelli difensivi vinti è il difensore che ha affermato è il giocatore in serie a in generale che ha affermato più driblatori in buona posizione c'è anche di lorenzo con 12 driblatori contrastati una statistica che fa capire il lavoro difensivo la crescita difensiva si è spesso detto di lorenzo è molto bravo in fase offensiva ha delle lacune in quella difensiva lorenzo con il passaggio intermedio da braccetto che farà ruolo anche il nazionale questa sera contro il belgio giocherà sul centro-destra della difesa a tre è cresciuto anche a livello di uno contro uno difensivo oggi è un vero e proprio muro della difesa del napoli anche perché napoli è passato a quattro ma quando difende l'ultimo terzo di campo è ancora cinque con politano che fa il quinto di lorenzo che stringe da braccetto sul centro-destra una trasformazione tattica che lo ha aiutato a crescere e a superare altri limiti a inseguire a coltivare i suoi margini di miglioramento perché bisogna per essere dei giocatori importanti bisogna fare così anche a 31 anni si può crescere e si può migliorare sarà interessante coprire ciò che verrà fuori da questo allenamento congiunto con la Juve Stabia c'è anche Fonoruncio che vista la sua estate tormentata può alimentare altre conoscenze tattiche integrarsi nel gruppo mettersi in mostra anche con Conte attraverso questa sosta del campionato che può sempre rappresentare un'opportunità preziosa nonostante vedi tanti giocatori fuori in giro per il mondo alcuni che torneranno praticamente con uno o due allenamenti nelle gambe prima di Empoli penso d'Olivera che giocherà nella notte tra martedì e mercoledì a Montevideo quindi è probabile che rientri tra giovedì e venerdì al lavoro a Castelvolturno stasera poi daremo un occhio all'Italia alla nazionale Palletti vuole continuare il lavoro fatto a settembre la prima rinascita dopo l'europea con le vittorie contro Francia e Israele una nazionale che avrà il formato del 3-5-1-1 con Pellegrini annunciato praticamente in conferenza stampa da Spalletti titolare alle spalle di Reteghi uno degli attaccanti più in forma nei cinque campionati europei lo dicono i numeri ha segnato sette gol in una macchina da gol come l'Atalanta. Di Lorenzo sarà l'unico rappresentante probabilmente tra i titolari del Napoli sul centrodestra poi sono pronti a subentrare come armi a gana in corso buongiorno in una difesa che è molto valida quella dell'Italia perché dovrebbe giocare con Di Lorenzo Calafiori bastoni e Raspadori che può fare il doppio ruolo può giocare può sostituire Pellegrini soprattutto ma anche in caso di necessità giocare al posto di Reteghi un centroavanti diverso rispetto all'attaccante dell'Atalanta o all'attaccante dell'Udinese Lucca che è stato convocato al posto di Ken che ha rimediato una pubbalgia dopo l'ottima gara giocata contro il Milan al di là del rigore sbagliato quindi sicuramente daremo un occhio all'Italia e lo commenteremo insieme e poi andremo avanti in questa marcia d'avvicinamento verso Empoli-Napoli di domenica 20 ottobre in un weekend che avrà delle sfide molto interessanti come Juventus Lazio e Roma Inter. Vi aggiorneremo quotidianamente con il mio punto C, la rubrica quotidiana sul canale YouTube di Radio Napoli Centrale, punto C di Ciro Troise lo potete trovare sul nostro canale, vi invito ad abbonarvi, ad iscrivervi e a mettere tanti like per far crescere il nostro canale e aumentare così la portata della nostra opera di informazione e poi gli aggiornamenti quotidiani tutto nelle nostre dirette dalle 13 alle 15 sul canale YouTube di Radio Napoli Centrale ma anche sul nostro sito RadioNapoliCentrale.it, su Facebook, su Twitch, sulla nostra app quindi non vi resta che sintonizzarvi con noi e vivere questa voglia di Napoli, questa voglia di vedere il Napoli che riparte così come si è fermato in testa alla classifica.